odd è finito al centro del gossip negli ultimi giorni per un flirt nato e finito prima della sua partecipazione all'isola dei famosi lei fa chiarezza nei giorni scorsi si è molto parlato della vita sentimentale di odd stando ai rumors il vincitore della quindicesima edizione dell'isola dei famosi oggi è single ma avrebbe spezzato il cuore ad una nota ragazza prima del reality a far trapelare l'indiscrezione è stato il settimanale chi nell'ultimo numero in edicola da mercoledì 9 giungo 2021 secondo la rivista diretta da alfonso signorini l'ex naufrago avrebbe avuto una relazione con la figlia dell'ex portiere del milan cristian abbiati giulia laura abbiati sul settimanale si legge proprio che lui le avrebbe spezzato il cuore cosa che non è affatto piaciuta alla ragazza la abbiati infastidita ha deciso di rompere il silenzio sui social nelle scorse ore per fare chiarezza in merito alla sua relazione con odd sul suo profilo instagram giulia laura abbiati ha fatto sapere di aver avuto una breve frequentazione con odd a detta sua non l'ha mai messa in mostra perché non l'appartiene non è però riuscita a restare in silenzio dopo che è stata etichettata come ex fidanzata di odd con il cuore spezzato la ragazza ha continuato dicendo che è tutto molto ironico perché sia lei che lo youtuber napoletano sanno che di cuore spezzati non ce ne sono stati ha poi aggiunto che il fatto che suo padre sia stato coinvolto in questo patetico gossip che riguarda sua figlia è un ragazzo che lui non ha mai conosciuto giulia laura abbiati ci ha tenuto poi a rassicurare tutti dicendo che il suo cuore non solo è intatto ma è anche pienamente occupato la ragazza ha quindi chiaramente detto di non essere single ma non ha rivelato chi è l'uomo che le fa battere il cuore a differenza sua odd non ha ancora rotto il silenzio per parlare dello scoop lanciato da chi grazie a tutti grazie a tutti